Il monopattino è sicuramente un veicolo che va usato però nel modo giusto. Le regole sono poche, sono semplici, quindi non si va in due, non si va sui marciapiedi, si dà la precedenza sulle strisce pedonali e si cerca comunque di mantenere il lato destro della strada. Qual è l'utente quindi che avevate prima dell'emergenza Covid e come è cambiato? Quello che stiamo vedendo è che i viaggi durano di più, cioè le persone utilizzano altri mezzi per più tempo. Questo perché? Perché sta avvenendo un po' meno quella che chiamavano la cosiddetta intermodalità, cioè prendere un monopattino insieme a un mezzo pubblico. Ciò che diciamo è, siamo ritenuti anche servizio pubblico? Ok, allora metteteci in condizione di farlo. E forse la micromobilità in certi casi può essere un servizio molto più efficiente nelle città medio-piccole dello stesso trasporto pubblico. Non è un gioco e quindi va usato proprio per spostarsi come un veicolo.